Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per un nuovo video, oggi finalmente vediamo Resident Evil 3 come vi avevo promesso e prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace, campanellina e tutti quanti cazzi e mazzi che vi dico sempre e adesso sigla Ed eccoci qua, quindi sulla schermata principale, oh my god, I can't believe that Scusate i parastinchi ma sennò l'audio dopo tornerebbe due volte perché uso il microfono visto che questo microfono fa cagare il cazzo Quindi iniziamo, avvia gioco Allora, vabbè io di solito gioco praticamente estremo però diciamo che adesso facciamo una partita così giusto per far vedere di che si tratta, per dirvi la mia insomma Quindi facciamo assistita E niente, quindi ci ritroviamo in questa oscura selva diciamo Vediamo un po' che succederà Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusasi così in fretta Aspetta il corona Allora, vi ricordo che il gioco è uscito ad aprile 2020, precisamente il 3, visto che è il compleanno della mia migliore amica, me lo ricordo E niente, è uscito in piena pandemia quindi potete immaginare l'esploit che ho avuto E niente, io ho aspettato visto che tra le tendenze e tutto quanto ci stavano almeno 800 persone che facevano gameplay su questo E io mi sono detto chi sono io per non fare un gameplay su questo gioco e mostrarvi la mia versione Quindi vediamolo insieme, ovviamente senza spoiler questo è Nemesis, visto che il gioco è un remake della versione del 1999 Resident Evil 3 Nemesis, qui il Nemesis l'hanno tolto E niente, a me piace molto anche se è stato un po' accorciato Insomma il gioco in sé per sé dura solo due ore e quindi faremo al massimo quattro parti Perché è proprio corto I dialoghi vanno un po' cagati, ma tanto stiamo a parlare dei residenti di Volo Però vabbè dai, ora ce li vediamo insieme, li commentiamo come solo sappiamo fare noi Mi sono svegliata adesso da una nottata di fuoco Ti piacerebbe bello Se faccio così sembro meno vecchia Allora dai insomma, c'è la peda alzarti cara? Ovviamente io ho sbloccato molti degli oggetti che ci sono sullo store Quindi oggi nel senso molti segreti e cazzi vari non li vediamo perché non mi servono insomma E niente Però vabbè magari vi dico dove trovarli così Chiudiamo la finestra che qua se stava fraccicatutto Bella casetta Allora questa vive come una tarpana praticamente Sono io Non pensavo Apriamo la porta Oh, allo Che dove va? Scusate perché è passato un po' da quando non lo gioco più quindi Non mi ricordo un cazzo Comunque scusate io sto riflesso non lo riesco a togliere maledetto Non ci credo Me sto trasformando Oh mio dio Sì sei Sei da bonazza Stai diventando cessa Mi dispiace Sei un Non so come descriverte Idratatevi è importante Se no finite come lei Sulla scrivania Già vi spoilerò Quella foto è la foto di Chris Redfield Secondo me sti due trombano Però nella storia non si dice mai Insomma E Poi dirò addio a questa città Va bene Poi te ne andrai a fare in culo Quante pillole Sono tua Ecco vi dicevo Quello che mi dispiace un po' È che Jill alla fine è un personaggio Che Cioè Nel senso Non per cattiveria Però non ha né arte né pace Cioè nel senso Non sappiamo niente di lei A parte dell'incidente della villa E che lei Era lì Cioè non sappiamo della sua famiglia Non sappiamo del suo passato Non sappiamo Cioè degli intrallazzi Comunque a noi ci piacciono queste cose Noi che siamo comunque Cioè che veniamo dal pubblico Di The Last of Us Comunque c'è queste tragedie Cioè vogliamo sapere Invece Resident Evil e personaggi Sono sempre un po' Non so Anche lì Anche lì ho necler Che io m'ero proprio Cioè m'ero proprio Come posso dire Mi sono venuto nei pantaloni Per questo remake E non so Sempre un po' così Un po' Sì ok Il primo giorno di lavoro Però tu chi sei Non si sa Vabbè Comunque rapporto di Jill Sono già passati due mesi All'incidente provocato dall'ambrella A caso le mie sospensioni e le indagini Non sono proseguite come speravo Molto probabilmente questo rapporto Su ciò che ho scoperto Sarà il mio ultimo lavoro Come agente Star Posso solo sperare Che io ti ho fatto scoprire la verità Le persone infette da questo virus Sembrano trasformarsi letteralmente in zombie Corona Attraverso i flutti corporei In maniera particolare Tramite la saliva Attraverso il contatto con i corbi Siamo online? Sì Scusate il mio ragazzo Non è da escludere la diffusione Attraverso le vie aeree Falsa Falsa Ipocrita C'è essa Non è vero Noi che siamo sopravvissuti all'incidente Non mostriamo ancora alcun sintomo E vabbè Questa Perché lei Pregnante dall'incidente della Ville Appunto è stata sospesa E si è chiusa in quarantena Senza più vedere nessuno Insomma Cosa che avrei fatto anche io lo stesso Visto che ne sono i morti Appunti sulle indagini Questo è il brillante Ambrella? Ma dai Azienda farmaceutica L'idea nel settore Ricerca focalizzata Sullo sviluppo di armi E scopi militari Effettuati sotto la faccela Dell'azienda farmaceutica Diffusione del virus Dai laboratori Del monte Arc Le collusioni con i vertici Della città di Ragonsidi Vabbè Queste sono già cose che sappiamo Dal secondo in generale Le sappiamo proprio Lettera non inviata Sono prigioniera Della mia stessa casa Vedo spesso gli uomini Nell'edificio All'altra parte Osservarmi Dalle loro finestre Gli avrà Mi andati a Irons Sono dell'ombrella Non che questo Faccia molte differenze In realtà So cosa stanno cercando di fare Sento che sto impazzendo Mi sento come un morto Che cammina Ma non gliela darò vinta Devo andarmi Da questa città E fare in modo Che la gente sappia Cosa sta succedendo Quindi sappiamo Che il gile Da questo Sappiamo Che sta un po' Incazzata Insomma Questa vive Com'era Non lo so Ragazzi Messaggio di un collega Per gile Ma dai Ehi fenomeno Come te la passi Non riesco ancora A credere Che Irons Si abbia sospesa Dovrebbe piuttosto Darti una medaglia Per essere uscita Viva da quell'inferno Luglio Comunque immagino Che avessi continuato A ficcare il naso E' successo Tutto così in fretta Vorrei continuare A tenere un basso profilo Per la mia sicurezza Spero che tu non ce l'abbia Con me per questo Gli stars Erano l'orgoglio Del nostro corpo Girovoce Che stai per lasciare E la consigli Ma dai Cioè pregando Che si l'ha detta a tutti Immagino che tu Non abbia preso bene Questa cosa Della sospensione Del servizio Vabbè Brad Vickers Tramite il fattorino Così che nessuno Potesse incertarlo Godi di la maxi pizza Con salame Da parte di tutti i colleghi Dolce Anche Vabbè Mi dispiace Per Dopo vedrete Ma raga Che schifo Il frigo Duramente catta Insomma Bellissima Lei è l'attrice Che nel senso Ha interpretato Che è una modella Russa Molto gnocca Devo dire Io ho scelto I vestiti classici Perché sono affezionato Alla vecchia versione Insomma Anche perché Quelli nuovi Cioè non so Siamo nel 1998 Non hanno niente Niente degli anni 90 Io mi aspettavo Che ne so Pantoroni a vita alta Invece Questa è la cosa più Oddio il telefono Carusa Il telefono Mi sento Una cessa Si arriva Pronto Stai Stai bene Brad Cosa c'è Senti Devi andartene da lì Cosa stai dicendo Non c'è molto tempo Vattene via da lì Ora subito Ok Fammi prendere Io non so Che mi faccia sopravvivere Perché Qualsiasi persona normale Sarebbe già morta Dopo questa cosa Dopo questa cosa anche Che cazzo era Que cazzo era Que cazzo era Que cazzo era Devo andarmene di qui Comunque è un condominio Sta Comunque è un condominio Strano Che è anche Nel senso Sul Sul corridoio Cioè Il pavimento del corridoio È anche di parquet Cioè Non so Che si vive A 5 stelle Diamo la sorte Di questi poveracci Oddio Molto vera Un pezzo Poverini Mi prenderà Con il suo vermone Un pezzo Ecco perché Se lo sta chiedendo Non è una gonna Come nell'originale Sono dei pantalonciini Mi piacciono Perché sono abitata Sono in Cioè Sono sfiziosi Questa c'ha gusto La Garusa Questa proprio Senza tregua Tanto io Quando Fancazza Non è Obiettivo lascia la città Wow Dobbiaggio di merda Scusate Che cos'era Non ne ho proprio idea Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città Tu e io Io me la squadro Guarda Tinto Più tempo passa Più siamo fottuti Ok Come potuto succedere? Così in fretta Non lo so Però i casini non arrivano mai da solo Io l'ho abitato lì una volta Eee E niente Mi ricordo un po' New York Sta città Anche se Comunque non è tutta questa grandezza Da come si vede Questa c'è il barretto sotto casa Dovinate cos'è? Che ci stava dentro No No Non posso crederci Non ho insistito Come ha fatto l'infezione propagarsi così? No No Stai attento No 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 Quanti cazzo No 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 Vabbè diciamo che Brad Ma non con Jill praticamente Non capisco il perchè Siamo ancora una squadra Però vada Allora non mandare tutto a puttane come me Vai Perdonami Scusami Scusami Quello trampe si trasforma Quindi Brad è finito diciamo Io me la squaio Io me la squaio Nel piccolo Raggiunge il tetto del parcheggio Questa parte mi piace molto La musica Le ambientazioni Adesso ci sta pure sto stronzo No Indietro Non ti avvicinare Non ha sentito Un elicottero sta venendo a salvarci Un metro e mezzo di distanza Mascherina però non ce l'hai Un posto sicuro È qui dentro Vuole dirmi come si chiama Non posso lasciarla qui Sono Dario Rosso E non mi fido di te Scordate che vuoi solo fregarmi il rifugio Scordatelo dolcezza Dolcezza Vuole darsi una calmata Sono della polizia Voglio solo aiutarla Sì beh State facendo un ottimo lavoro Ti vuoi aiutare Ammalettati a uno di quei mostri E vaffanculo Ok grazie Allora ti lascio qui A schiattare Vaffanculo tu Cioè Uh huh Mamma miauum Nooo Nooo Noo Nooo Merda Mh C'è bai C'è bai C'è bai Ce l'ha fatta sta poveraccia Con il suo pantaloncino Comunque Dopo tutte queste sfiche Io mi sarei già schiattato Ma da ora che sarei morto Questa Non so Lara Croft Forza salta su Anche qui Io già sarei schiattato Oh mio dio Scusami è morto Dai Poi i comandi difficilissimi Premiamo È il mio turno Stronzo Questa Fantastica Fantastica Stronzo È vero che lei sta in mezzo al fuoco Cioè io non so come va a sopravvivere È vero che lei sta in mezzo al fuoco Che non è arrivato Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos Ti porto via da qui Coraggio Andiamo in un posto sicuro Lì c'è si sta bagnando Per questo incontro Ecco anche di Carlos Noi non sappiamo niente Cioè Sappiamo che fa il mercenario Ma ancora è buono Che le due cose scozzano No No Anche perché sarei sudato Fragico Come ti puzzi Chi è il coglione che l'ha chiusa? Mi piace Ci tocca fare il giro Ehi Cosa diavolo è Da quel mostro? Dai su mappa Non lo so Mai visto nulla di simile Ma non è un zombie Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo Comadori i tipi ostinati Non per niente Cioè Raga i dialoghi fanno ridere Tranquilla Sei buone mani Lo vedremo Cioè ma perché? Avanti Un altro filmino Capitano Alla signorina serve aiuto Carlos Non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Cioè lui come lo sa? Sai che è un membro d'elite della STARS Sezione speciale della polizia di Raccoon City Si chiama qualcosa come Valentine Sono Jill Piacere di conoscerti Gio Sono Kyle Victor Comandante del platone dell'UBCS Siamo stati in via 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 Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata Togliata fuori Molte centinaia di migliaia di civili Finiranno per morire Mi correggo Trasformarsi Il mio platone ha subito ingenti perdite Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza Ringrazio il tuo datore di lavoro per questo Sì Però Stiamo facendo tutto il possibile Se riuscissimo a far partire questo treno Potremmo far evacuare i sopravvissuti Ma ci serve aiuto Non possiamo farcela da soli Va bene Ci sto Ma è per loro che lo faccio Non per voi Oh ehi Bene Siamo sulla stessa barca Grazie Jill Ok super star Prendi questa Servirà per tenerci in contatto So cos'è una radio Io vi ricordo che è passato pochissimo tempo Devi equipaggiare Sali al piano di sopra Troverai dei rifornimenti Ok Dicevo Vi ricordo che è passato pochissimo tempo Dall'incidente alla villa Nel senso Non morirò certo per questo Considerate che adesso è settembre Loro stavano Non so quando A luglio Ma io Non mi ricordo Non riesco a farlo ora Quando è stato ambientato il primo Però Cioè lei da cacasotto che era Ma è diventata Non so Vabbè Qui ci sono i sopravvissuti Vabbè questo è il manuale Delle polvere di asparo Tanto già lo sappiamo Insomma Una giornata grigia del mattino Il 25 settembre La centrale di polizia della Consiglia Ha ricevuto la chiamata Un cittadino terrorizzato Di stimolo di un'aggressione Da parte di un balotto Dove si dove distracci Il sospetto Aveva salito un passante A nord del museo D'arte Lamps Ehm Qui alla relazione del Newscom Ci chiediamo se non sia uno dei pazienti ricoverati Dallo Spencer Memorial Per cannibalismo E che non gradisce particolarmente Il cibo della menza E l'ospedale I nostri viati Sono riusciti ad entrare Dallo Spencer Memorial Per informarsi di fatto E sono tornati Con dettagli Che farebbero rivoltare Lo stavo Ma manca il piacere Serial killer Oddio Cazzo è lo Spencer Memorial Gil Sono ancora io È già uscita Ci sono quasi Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari Puoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrai fare? Devi prima ripristinare la corrente Ti guiderò fino alla sottostazione Quando sarai in strada Ricevuto Vado subito Questo è un altro manuale di Narda Che non ci serve Vediamo Tutto a posto Tanto io ho la pistoletta infinita Questo Stop Ma una ci basta Dai Possiamo in modalità assistita E niente Vi appunto Vi volevo dire Non ho capito Perché in questo gioco Praticamente Il comandante delle forze È Mikhail Mentre Quello del 98 Era Nikolai Aveva un po' più senso Perché Poi quando Comunque Penso che tutti quanti sapete La storia di Nikolai Di Nikolai Va un po' più Appunto Da un po' più senso Perché Però Vabbè Pure qua Dai Vedremo un po' Altri sopravvissuti Il susseguirsi Di questo drama Bannera Bannera Andiamo Andiamo Poi mi piace pure L'ambiente Cioè che ci sono messaggi Di emergenza Così è una città distrutta Sì Anche se abbiamo tutto Però io questi Mi riprendo Lo stesso Tra l'altro Chi è che lascia Questi cofanetti Questo è il messaggino Delle mongoloide Che dobbiamo sparare Scusate Sto proprio Ero incoglionito Allora questi Nel gioco originale Erano veri Cioè nel senso Zaffiro Smeraldo E Rubino Erano veri Cioè c'era scritto Che anzi La città Aveva fatto Questa opera D'arte E così Per Per il municipio Poi invece Sono stati Spanculati Nella centrale Della metro E tra l'altro Dice pure Che è una Una copia Dernarda Insomma Però Sceglie Che vuoi dire Questi c'hanno Una forza Che non ve lo so Dovano C'è una città Che tal? Valle Ma allora sei stronza Questa la prendiamo che ci serve in futuro Ancora Sì ho capito Queste le schiaffiamo Qua dentro Che tanto dopo ci passiamo Vi faccio vedere Oh Oh Bello è che la voce non si capisce In sottofondo Sarebbe stato interessante Sapere cosa dice Insomma Sapere che io sono un collezionatore Proprio di quelli stronzi Perché Come sapere Magari ti serve una cosa Ce l'hai? Una tirchia Se chiama il mio paese Una tirchia Sarebbe ma dai vabbè in caso di interruzione di quarantena si interromperà l'intero servizio su tutte le linee quindi un periodo di emergenza molto efficiente diciamo per una grande città una volta ripristinata la corrente si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta ok questo è il tubone che ci serve diciamo nota operaria della metropolitana questi giorni di episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più sono persino arrivato al punto di comprare un fucile nel caso in cui la situazione vada fuori con un collo l'ho messo al sicuro nel portafucili sì nel portafucili scusate nel portafucili se le cose si mettono male tagliate la catena utilizzate questa bellezza la catena la catena la catena ancora? non è che da muare ok però per caco tutte queste erbette allora per chi volesse aprire la cassaporta questi sono i numeri della combinazione 937 aspetta scusate scusate ovviamente c'è un credo che ci sia il mirino per la pistola normale io pensavo andasse bene pure su questa ma non ho capito già perché nella pistola è limitata non puoi fare potenziamenti ok e niente vabbè c'è stegnerino questo dice che questo nuovo tonico per i capelli sta andando a ruba i loro prodotti fanno sempre meraviglie aspetta e vedi questa zona sta diventando molto pericolosa sarebbe meglio se acquistassi una buona cassa porte questa parte perfetta nessuno conosce la combinazione è un segreto rimarrà qui bellissima acqua cure appunto la pubblicità che abbiamo visto poc'anzi ma non dobbiamo prendere tutto insomma da qui siamo passati prima lì dove si mangia il granchio dove siamo stati l'altra sera a mangiare che ricordate questa prendiamo niente ragazzi oggi comunque arriviamo fino alla centrale elettrica perché comunque come vi ho già detto il gioco è abbastanza corto quindi è inutile che moffare e soffavete tutto quindi facciamo un po' di pezzi così così magari anche voi avete il tempo di darmi feedback se vi piace mettere vi piace iscrivervi supportarmi quindi va bene ma davvero questo per il momento non serve un altro video Nicolai che cazzo hai fatto era infetto ma non potevi saperlo che rammolliti gli stars ecco perché siete quasi tutti morti e tu chi cazzo sei ubcs vi ammazzate tra voi si sarebbe trasformato la intenzione di morire giovane per caso torna subito alla stazione della metro non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti carino ma stronzo vabbè vabbè ti avevo la prigione l'ambrata col paresci mi ha reclutato per un lavoro un lavoro un tiro di benedì che a questa occasione non me la lascia certo sfuggire quel cazzo che rimango a marci dietro le sbarre vabbè ieri mi sono finalmente uscito da prigione mi hanno portato al campo di destramento dove ho sparato uno a me poi questo è il suo diario di allenamento insomma un carri stretto in margine di errore a circa sette centimetri mi sento meglio molto meglio nel pomeriggio ho partecipato alla mia prima esimulazione di combattimento ecco ma quel Nicolai è completamente fuori di testa mi ha usato come scudo umano come se niente fosse per ottenere punti extra quindi qua già capiamo che Nicolai è una merva il vecchio marchio è tornato quello di un tempo da oggi in poi mancherò neanche un bersaglio domani andrò alla prima volta in missione a Raccoon City qua la musica è meravigliosa scusate ho avuto un problemino con l'iphone uso comune del generatore di corante associazione 3tem a causa della continua interruzione di corante la nostra associazione ha deciso di installare dei generatori ledge vabbè questi sono per quelli che incontrate durante la city insomma infatti qua ci stanno i lupazzi vabbè 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 io vorrei miles ho avuto molto spazio sull'iphone delle gioie quelle belle allora l'altra volta ho registrato lo stesso video e non è andato sempre per lo stesso problema è perché non avevo registrato il videogioco adesso praticamente infatti cercherò di muovermi Quindi dai, diciamo che ci fermiamo qui Alla centrale elettrica E niente Dalla prossima volta vedremo cosa succederà In questa centrale elettrica Sì, vabbè, grazie In questa centrale elettrica Dove a quanto pare ci stanno Non so, lo vedremo Vabbè, ma tanto ce lo sapete Comunque grazie per avermi seguito Se non siete ancora iscritti Vi ricordo di registrarvi E di mettere mi piace La campanellina per essere sempre aggiornata Perché io pubblico video Regolarmente, in genere O una volta a settimana Oppure una volta ogni 14 giorni Dipende dalla mole di lavoro che ho da fare Insomma E niente ragazzi, grazie mille Ci vediamo alla prossima Al prossimo video E niente, ciao 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 Grazie a tutti.